Scusate perché sono un po' emozionato perché sono andato sempre in giro a partecipare a questioni pubbliche, però quando si incontrano persone c'è sempre una emozione, è sempre una novità per me. Allora, voglio ringraziare veramente di cuore i due che sono seduti vicino a me per la fiducia che mi ha dato. E poi voglio dire, io ho accettato dopo aver fatto una forte riflessione perché l'incertezza soprattutto dovuta al fatto che io non mi sento all'altezza così, non lo so come, quale cosa mi aspetta così.